Gesù Cristo Se l'ho dato Gesù Cristo un saluto carissimo a voi che ascoltate oggi. Gesù pone una divisione, una divisione che è una condizione. O accettate di mangiare la mia carne e bere il mio sangue, oppure non avete parte con me nella vita eterna. Perché è il modo per avere la risurrezione, quella che noi sappiamo essere l'Eucaristia. Ma perché mangiare il suo corpo e la sua carne e bere il suo sangue? Tanti riti antichi preparavano questa cosa. Mangiare la carne e consumarla davanti a Dio e rassegno di comunione con Lui. Dio manda il figlio che diventa l'agnello di Dio sacrificato. Dunque è il vero sacrificio di comunione. Fare la comunione vuol dire avere lo stesso spirito di Gesù che si comunica attraverso il suo corpo umano che a noi viene dato in modo sacramentale. Come sappiamo le specie eucaristiche nascondono la sostanza della vera carne e il vero sangue di Cristo. Perché è così necessario? È un mistero molto profondo e difficilmente arriviamo fino in fondo. Viene paragonato l'unione tra Dio e l'anima dell'uomo a un'unione esponsale. Chiaramente la carne è un segno, ma anche un modo per poter significare l'unione spirituale. L'unione spirituale di Gesù capo con la Chiesa che è il corpo. E' il vero grande matrimonio. San Paolo dice, parlando del matrimonio fra uomo e donna, in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Il mangiare dunque il corpo e bene sangue di Cristo significa un'unione materiale, ma che è sostenuta e vitalizzata, garantita dalla recezione dello Spirito che il Cristo dà. Tutto questo viene dato per mezzo del sacramento, cioè della sua umanità. Il Cristo riassume in sé tutta l'umanità, tutta l'umanità viene da un solo uomo, tutta l'umanità deve ripartire da un solo uomo e diventa una sola cosa con Lui e Lui con il suo purissimo sangue purifica l'umanità accorpata a Lui. Il significato non è solo ideale, è molto molto concreto. Ma questa è la pregnanza del sacramento. L'azione dello Spirito di Dio si compie attraverso la materia che viene sacralizzata e dunque santificata. Come in Adamo tutti abbiamo peccato, così in Cristo tutti siamo salvati. Occorre dunque una incorporazione con Lui. La carne non giova a nulla, dice Gesù, è lo Spirito che salva, è lo Spirito che trasfigura il nostro corpo, è lo Spirito che ci fa risorgere e ci dona un corpo spirituale, superiore a quello che noi abbiamo ora. Ma per condividere la risurrezione del Cristo occorre condividere il suo corpo che viene sacrificato e dunque noi siamo sacrificati in Lui. Il nostro peccato è consumato in Lui. Il suo sangue purifica il nostro peccato, il quale è stato preso sul suo corpo, nel suo corpo, ma la salvezza, la salute del suo corpo è superiore alla morte del nostro. Fare la comunione dunque vuol dire lasciarci purificare, santificare, trasfigurare e dunque risorgere dal sangue e dal corpo di Cristo. Noi ne siamo parte. È solamente una questione di attesa con la partecipazione di tutta la nostra buona volontà, di tutto il nostro essere, senza lasciar fuori nulla. Il poco che siamo, il poco che diamo, deve essere il tutto di noi. E la nostra goccia è nell'immensità di Dio. dell'uomo Dio. Dio vi benedica.